Ciao! Buonasera a Ciotola, buonasera anche a te la Ionico Ma tu non respiri quando sei da sola, perché poi quando io ti sposto sempre E parli No, è perché devo, cioè, capito, devo fare un saluto bello carico e quindi devo prendere più aria, capito? Sì, capito, comunque la mia cena fa schifo stasera, quando mai, ma va bene, va bene, ma non si può sempre mangiare cose che ci fanno impazzire Io non capisco com'è possibile, perché prendiamo la cena nello stesso identico luogo, perché la mia è buona e la tua no? Ma non è buona, è che tu dici dici, ma poi... Fatti due domande, datti due risposte Tu, alla fin fine, mangi le porcherie, non sei una col palato raffinato come me Allora Io sono una persona estremamente educata e quindi mi terrò tutte le risposte del caso Per dopo la live Vabbè, è vero però, Anna, io ho un gusto molto più sopraffino di te Quindi quando mangio una cosa che non è perfetta, io ci sento che non è perfetta Tu invece dici, è buono, ne te lo mangi Ancora una volta ti rispondo Eh, vabbè, ho capito, però Essendo una persona... Allora, se vuoi che ti rispondo male, ti rispondo No Però poi non mi dire, ah, oh no, e mi sposti Non devi dire niente, allora, va bene, perché sei volgarotta, però, se fai così, eh Perché uno può rispondere sempre Te lo scrivo, te lo scrivo, perché questa cosa va scritta Ecco qua Eccola là, eh, guarda, volgarità Eh, lunga, eh, sta volgarità Oh 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 Ecco qua Ma non è vero Ma stai zi, ma che cattiveria Anna ha detto che io mangio porcheria Che cosa è che ho mangiato? Non ho mangiato niente oggi Il cannolo di ieri? No, non è questo Era buono Allora, a parte che tu hai una capacità di fare accostamenti culinari Che veramente è disbussosa Eh, Anna, a dire culinari in live, comunque sei veramente volgare Tu non, cioè, tu, io ricordo che tu te mangi, ad esempio, la pasta al sugo e te bevi il succo di frutta Allora, beh, non è che lo faccio tutti i giorni, eh Insieme, ed è una cosa disgustosa Allora, vogliamo parlare dei tuoi vizi culinari, eh Vai Che non mangi nessuna verdura, dando un grandissimo brutto esempio a tutto il mondo, perché le verdure fanno bene E tu sei ignorante Ho capito, però io non... No, 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 fermo Allora, io non do nessun cattivo esempio, perché non è che dico Affan, lo schifo non le mangiate neanche voi Te, ma non le mangi tu Voi dovete mangiare le verdure, io non gliela faccio Eh, brava imbecille, eh, brava imbecille Che ho capito, ma faccio male solo a me stessa Te invece fai male al cosmo facendo stesse cose come la pizza con l'ananas Ma io non mangio la pizza con l'ananas Tu sei l'inventore Ma non è vero Non puoi fare della pizza con l'ananas Anna, io non ho mai mangiato la pizza con l'ananas Ma saresti capace di farla Ma non è vero La assaggerei Sì La assaggerei per curiosità Perché se non ti strozza ti ingrassa, dicevano E quindi Capito, ma cioè, se non ti strozza e mai ingrassa No, 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 sei un somaro Ciao Ciao Grazie a tutti.